aspettandoli veri aperti frantoio roi badalucco un paese al bacio piacere grazie amici di aspettandoli veri aperti mi trovo a badalucco un posto veramente bello ma ancora più bello è il museo dell'olio roi si allora passiamo dentro al frantoio di mio bisnonno questo è un frantoio del 1900 io sono nato in un frantoio e quando ero proprio piccolo piccolo mia mamma e mio papà lavoravano nel frantoio e io dormivo sui sacchi delle olive 18 e 19 giugno oliveti aperti allora ci stiamo organizzando noi faremo visitare questo frantoio perché ne vado molto fiero perché è rimasto dopo 120 anni ancora integro perfetto come lavorava mio bisnonno e poi faremo certamente una degustazione di oli della nostra zona del doppio della nostra zona di taggiasca grazie a leonardo per il bellissimo omaggio e grazie al consorzio della DOP vi aspettiamo 18 e 19 giugno per oliveti aperti ciao